Nuova top 11 del campionato di Lega Pro, nuovo mister e tante altre new entry. In panchina un ex bianco verde Dudu della Fidelissandria. Dal suo avvento in Puglia si respira un'altra aria e la vittoria contro le Monterosi ha consentito a Leone e Biancazzurri di lasciare l'ultimo posto in solitaria. Tra i pali un altro ex Avellino, Michele Avella della Virtus Franca Villa. Le sue parate hanno stoppato tutti i tentativi degli attaccanti Tarantini e dimostra di essere tra i giovani estremi difensori più interessanti del panorama del calcio italiano. Difesa tutta in gol, si parte con Dalmazzi della Fidelissandria che con la sua zampata piega il Monterosi. In era di rigore più che un difensore sembrava un attaccante di razza. Poi Brosco del Pescara che ha dato il via alle danze nel blizzi del Liguori, russo dell'audace Cerignola, decisivo allo Zaccheria segnando il primo gol dei Giallo Blè e chiudiamo con Garzia del Picerno che ha piegato l'Avellino anticipando tutti e mandando in crisi i lupi. Centrocampo a tre con Peralta del Foggia, bello ma allo stesso tempo inutile il suo gol al Cerignola. Mora del Pescara che con quello messo a segno attorno del Greco è arrivata a quota a quattro marcature stagionali. Non male, è Felipe De Giuliano dei Miracoli. Il classe 2000 Carioca ha piegato le monopoli con una grande doppietta al partito dei Lombardi e merita più che una considerazione. In avanti Iemmello, capo canoniere del torneo. È sempre più uomo chiave per il mister Vivarini. Poi chi ricoda il Crotone, ormai gli aggettivi per lui sono sprecati, è Malcore del Cerignola. L'ex Nocerina è più che un fattore per mister. Pazienza! Grazie a tutti!